I lavori della costruenda autostrada Rosolini Modica di nuovo a rischio stop. L'allarme arriva dai sindacati CGL e Will. Un rischio concreto, dicono, dopo che la consedia dell'SPA, che ha in appalto l'opera, ha manifestato le solite criticità alla prefettura che si protraggono da anni. Ci siamo già rivolti alla prefettura di Ragusa, continuano i due sindacalisti, Franco Cascone e Carlo Spinello, affinché si attivi un tavolo con tutti i soggetti interessati e si programmi, se necessario, un'apposita conferenza di servizi per responsabilizzare i vari enti a fare la loro parte, celermente per rimuovere le criticità. Se l'opera si dovesse fermare, sarebbe la fine per decine di imprese fornitrici e subappaltatrici e la perdita del lavoro per oltre 300 persone che attualmente, tra diretto e indotto, lavorano in cantiere. Inoltre, ciò significherebbe la perdita del finanziamento europeo di circa 70 milioni di euro, decretando così la definitiva impossibilità a concludere l'importante arteria, alla base del paventato nuovo stop, ancora una volta le cosiddette interferenze. Quasi un déjà vu, come accadde mesi prima, e che portò condotte al concordato preventivo e al blocco dei lavori. Tutte le autorizzazioni e le opere che interferiscono nel percorso della strada e dell'opera sono rimaste, nonostante le rassicurazioni più volte promesse dall'assessore Falcone e dal presidente Musumeci non risolte, condotta IRSAP, Ferrovia, Enel e altre ancora. Dopo un anno sono lì, nello stato in cui le lasciò il precedente consorzio di imprese ad ostacolare la prosecuzione dei lavori. Purtroppo, proseguono CGL e Will, la vera pandemia italiana è costituita dalla inettitudine della classe politica che sieda nei posti di governo e nelle alte sfere della burocrazia. Il governo regionale e il CAS dimostrano ancora una volta incapacità e inaffidabilità, sostengono poi con vehemenza i due sindacalisti, Franco Cascone e Carlo Spinello. Rivolgiamo alle istituzioni locali e alla deputazione politica locale per un appello ad alzare il livello di attenzione sulla vicenda e affinché sostengano la protesta dei lavoratori a difesa dei posti di lavoro e della prosecuzione e completamento dell'opera. Concludono, nei prossimi giorni mobiliteremo i laboratori e non escluderemo di dover ricorrere a decratanti manifestazioni di protesta.